eccoci qui buonasera 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 la sera succede il casino ciao ragazzi ciao ok cambio aspetta aspetta ciao a tutti ragazzi vediamo se arrivo almeno i pedali dove devo prendere non lo vedo acqua è questo ragazzi ho paura di far esplodere tutto allora ci proviamo ci riesce leo ci posso riuscire anche io giusto ecco la laguna secca volante è storto a casa per il contromuro anche le braccia quindi io mollo non mi abbandonare dove vai mi ha abbandonato vede ma scusa non devo vieni qua ma dove devo andare ma la pista qual è questa cosa ho fatto non ho fatto niente cos'è cos'è frenati frenati non la schianto non ti preoccupare rilassati rilassati che ti andrà tutto bene poi larga lì frena ma non la conosco nemmeno ho sapiso ma vatti di frenare non accelerare cosa c'è quella faccia perché hai fatto quella faccia suggerisci no 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 non vado non ti preoccupare è pazzesco pensare quando uno si impaurisce cosa che faccia è loro invece che frenare ma chi è ma perché ma no ma fanno così anche con te eccolo io lo sapevo io lo sapevo peggio molto peggio fermati ma come mi stavo adesso che stavo imparando ragazzi mi sto iscrivendo a strixtoxi spanneranno sicuro ma non ce ne frega niente detto in italiano cosa faremo ovale quelli che quella che sono volato quello il video di oggi secondo ok quindi a prendi poco a poco vabbè ma questo è facile che ci sono torri tutto non ci arrivo mi spiace ecco vedi aia ma mi vuoi uccidere tutto 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 prena però adesso prena ok dai gas tutto tutto ma mi schiavo devi lasciare questo volante continuo a muoversi ma poi non dire di accelere troppo possa andare piano dai cioè la cara tra poco paella ma no 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 ciao no 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 non no no silenzio ce l'ho fatta alle 22 c'è la gara la fai tu no 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 fede poi mi vengono addosso e dai però ma perché dai ma perché vedi che vai contro il muro bolla il gas giri e poi dai gas no aspetta cos'è che hai detto giri e poi dai gas tu vedi che vai contro il muro cosa vuoi fare frenare almeno bolla il gas ogni volta che punto il muro hai più gas cosa ho fatto? la sculetta un po' la macchina sculetta aspetta vuoi farmi ridere fai hai fatto tutto tu qua non hai è sì vedi che stai dando gas lo sto dando gas è una tua impressione ma cosa succede se io vado addosso a qualcuno se dopo se la prendono con te sì perché pensano sia tu sì l'ha imparato pure Marza sulla pista se hai imparato lui lo imparano tu dai ma se Marza mi critica pure come guido la macchina normale non ha la patente cosa che può dire questo che cos'è? partirò arriverò ultima me lo auguro per tutti gli altri ma io ho paura prena ok gira qua se vi giro il cordo aspetta giù tutto cederà prena perché mi stavo per schiantare prena oh no 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 buono 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 calma l'ho poi è molesto stasera ciao ciao è finita? quindi? tutti aspetti di essere? ma stiamo partendo sì vai ma questa è la partenza? beh è a sinistra destra vuol dire vai calma ragazzi è di stare a destra devi stare dietro a quello rosso perché? perché le regole sono così non le dici tu adesso ah ma questo ancora lo siamo partiti no no è la partenza lanciata tranquilla mi sono sentita aspetta aspetta sto piangendo ok piangi stanno facendo venire tutti quanti l'ansia oh è verde siamo partiti farli passare lui ma perché devo farli passare? non chiuderlo metti la tua gara vai frena frena sei ultima con vantaggio grande vai benissimo allora l'obiettivo è finirla oddio ma cos'è? ma sono morti tutti buono 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 e sono morti frena ma ragazzi ma muoiono tutti qua ma qui vince chi sopravvive frena farli passare frena no non le voglio far passare perché devo farli passare? sei doppiata sei doppiata oddio frena no no hai fatto tutto tu stai facendo tutto tu ok vai no 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 vai 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 stai facendo la macchina è perfetta vai stai facendo questo mi viene addosso no no lo so per questo dove è passata? frena accelera accelera frena che devo fare? ok vai piano è perfetta la macchina vai vai hai toccato ma adesso mi hanno superato tutti no sono ultima ma non ti preoccupare sei settima vai vai accelera voglio a prendere ne hai di più ne hai di più ne hai di più ma non è vero guarda lì ciao sono morti tutti silenzio calma 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 sei entrata in curva perché? volante mi stai mandando via però magari non è mi stai mandando via ammettilo è un po' ragazzi non fate mai provare un attore alle vostre ragazze non è vero loro mi vogliono bene e mi raccomando seguite Elvi sia su youtube vi lascio il link sotto sia su instagram fino al prossimo video ciao ciao ciao